Pillole di non solo suoni, la storia della musica passa da noi. Ben ritrovati, oggi diamo spazio a un artista che da tempo è scomparso dal palcoscenico, inteso come quello su cui si focalizzano le attenzioni della massa, del pubblico di massa. Insomma, non è certo da Sanremo, infatti Flavio Paulin all'Arison non c'è andato, a differenza degli altri ex compagni di formazione, cioè i cugini di campagna. Lui, cantante dalla chioma lunga e bionda, proprio dei cugini di campagna, alla voce in falsetto, insomma, che ha stregato così tanti fan all'epoca, nel 1977 lasciò improvvisamente la band andando ad abbracciare, per così dire, il verbo dei craftwork, passando, insomma, la voce naturale, tagliando anche i capelli. Rimane comunque un pioniere assoluto che avrebbe forse meritato più attenzione, ma tant'è. Anzi, lui stesso aveva spiegato all'epoca dell'ultimo festival 2023 il perché della sua assenza alla domanda posta dalla rivista Rolling Stone. Aveva infatti risposto che la band di cui aveva fatto parte era stata al festival proprio perché lui non c'era. E poi aveva spiegato meglio. Quando c'ero io, le nostre canzoni erano delle bombe, erano talmente belle, e lo dico con orgoglio, che non avevamo bisogno di vetrine. Abbiamo sempre snobbato Sanremo perché eravamo sulla cresta dell'onda. Quindi, se ci fossi stato io e i cugini, non avrebbero probabilmente avuto bisogno di Sanremo. E poi la musica non va votata, non è una gara, è un'arte. Insomma, un giudizio trancheant per uno che poi ha tentato anche di lanciarsi nella carriera solista. Un primo singolo lo pubblicò con la Pull, Robot Robot, la prima donna fu mia madre, e proseguì poi con sonorità elettroniche simile a quelle che ai tempi provenivano appunto dalla Germania, unite a radici della musica classica melodica italiana. Questa via sperimentale è poi diventata un album omonimo Paulin pubblicato dalla RCA italiana nel 1979. Per realizzare questo LP fece anche costruire appositamente da Mario Maggi, cioè un giovane ingegnere, amico e anche esperto di elettronica, un apparecchio che era in grado di sincronizzare i suoni, cosa che all'epoca non era ancora possibile. L'album fu poi realizzato nello studio 41 e al banco c'era come tecnico di registrazione Franco Finetti. Poi aveva collaborato anche con il musicista Giorgio Brandi, tastierista, anche lui ex componente dei Cugini di Campania, e da questa collaborazione era nato nel 1998 un brano, L'amore mio per te, supportato anche da un videoclip, insieme a Poche lacrime e Perderti. Poi la loro collaborazione artistica li ha portati anche a realizzare alcuni concerti insieme. Ha fondato successivamente l'etichetta discografica indipendente Private Artists Records SRL, che sostiene soprattutto i giovani talenti. Con i Cugini di Campania invece aveva realizzato tra le altre la canzone che oggi fa da colonna sonora, ossia Tu Sei Tu, che è anche il titolo del sesto album, del gruppo, quello che conteneva dieci brani in tutto e quasi tutti opera sua e di Ivano Michetti. Sarà anche l'ultimo disco nel quale Pauline sarà presente, che metterà in dubbio per qualche tempo l'esistenza stessa della formazione, fino poi all'arrivo di Paul Manners che lo sostituirà. Una particolarità è legata all'edizione a 45 giri del brano, che dà il titolo all'album. Infatti in un primo tempo venne deciso di abbinare come lato B la canzone intitolata Gesù, che però forse proprio per il testo, che esprimeva i dubbi di un uomo che cercava Dio, venne poi sostituito all'ultimo momento dal memo rischioso Donna. Le copertine già stampate vennero poi forate nel mezzo e riutilizzate per accogliere le edizioni per Juvox della casa discografica Fonit Cetra, che aveva appunto distribuito anche la casa a Paul. Ecco allora a voi la canzone Tu sei tu.